segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te venuta da dista a beba e ha detto mi fate vedere il cartello mi dò come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale perché è una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d'europa e credo che l'italia non abbia ragione di discorsarsi dalle normative europee di riferimento tommaso in realtà qui c'è del vero ma anche no perché poi in molti paesi europei ci sono cose che si chiamano in un altro modo è un abracadabra di un grande politico giorgia melone che ha un grande politico però dice una cosa smentibilissima nel senso che è vero quello che lei dice in europa non esiste questa norma come norma dell'europa è vero ma esistono una miriade di norme equipollenti quindi la guardi dal lato a o dal lato b il lato a è quello che dice lei lei sostiene e il suo governo sostiene che l'applicazione di questa norma che in realtà fu abolita nel 18 si chiamava in un altro modo era la protezione umanitaria l'abolì salvini conte 1 giallo verdi ricordiamo ormai sembra no la fa salvini e poi per gli altri l'allargano no salvini l'abolisce poi viene reintrodotta nel 20 sempre da conte diventato 2 trasformato in un progressista che la reintroduce con un altro nome la morgese ministro protezione speciale cosa vuol dire vuol dire che se tu non puoi essere protetto in nessun modo europeo il nostro paese ti dà un modo per essere protetto questo ha un lato a e un lato b il lato a è noi diamo uno status di possibilità di rimanere in italia a persone che forse non l'avrebbero sulla base di cose serie rischio di persecuzione di carcere eccetera però cosa facciamo anche evitiamo che una miriade di persone spariscano nel nulla e diventino fantasmi clandestini gente che butta i documenti che è quello che tu consigli di lato bici dell'aspetto positivo quindi è un tema dove non esiste una verità assoluta ma esiste un paese che decide dove vuole arrivare adesso aiutaci tu però sulla questione protezione speciale che è la terza modalità sì la terza modalità dopo asilo politico